C'è il giro pizza e c'è il giro tonic Mi basta così, va bene Grazie, buona giornata, ciao Ruri Ciao, ciao, ciao Una notizia per gli amanti delle serie, dei film e degli show È arrivata Now TV È l'unica internet TV che permette di guardare le serie TV più famose anche in contemporanea con gli Stati Uniti 15 pre-evisioni cinematografiche al mese e i grandi show Tutto senza contratto e senza vincoli Per attivare Now TV ci vuole un attimo e potete guardarla quando volete, dove volete Sul PC, sul tablet, con la game console, sulla vostra TV con Now TV Box Andate su nowtv.it Radio, DJ One nation, one station Paolo, pranzetto insieme domani? Domani devo cambiare il filtro dell'olio alla mia auto Prenditi tutto il tempo che vuoi Grazie agli Open Days, ora le officine Ford Sono aperte con orari estesi Per la tua auto con più di 4 anni Scegli Ford Motorcraft Service Cambio olio, filtro dell'olio, filtro dell'aria A 119 euro Scopri di più su Ford.it Ciao a tutti Grazie a tutti.